Ciao Danino JFC, questo è il day after, il giorno dopo, Inter-Juventus 4-4, andiamo come sempre ad aggiungere qualcosina rispetto a quello che abbiamo già detto nel post partita. Se non avete visto il mio post gara lo trovate ovviamente nella sezione video del canale. Allora, prima di cominciare, come sempre, se vi piacciono i miei video e volete sostenere il mio canale, vi chiedo solamente un pollicione verso l'alto qui sotto. Lasciate un like, ovviamente, ovviamente poi commentate perché come sempre voglio sapere le vostre opinioni, i vostri pareri su tutti i vari aspetti. Ieri era il post partita in generale, oggi parliamo in particolare della situazione Danilo Gatti, insomma queste magagne difensive, chiamiamole così, della Juventus. Quindi mi raccomando il commento qui sotto, poi se volete fare proprio il completo totale potete addirittura abbonarvi al canale. Cioè il pennarello ancora in mano, come ieri sera, questa sembra proprio una barchetta magica, ci sta pure bene, poi bianco-nero voglio dire. E infatti una mezza magia, tra l'altro ora che ci penso, ci vorrebbe pure per quanto riguarda la fase difensiva della Juventus. In ogni caso, questo è un day after molto strano perché, come dico sempre, se la Juventus non vince, non può essere un day after positivo. La Juventus ieri sera in effetti non ha vinto, però delle vibrazioni positive ci sono rimaste dentro, perché comunque la partita era andata sul 4-2. Sembrava veramente quasi scritta, insomma la sconfitta per i bianco-neri, addirittura con un punteggio anche più ampio, perché l'Inter ha avuto delle occasioni per andare ancora a segno, così non è stato e invece alla fine ne esci con un 4-4. Cioè veramente per come è andata la gara per noi è un punto guadagnato e per gli avversari sono due punti persi, perché ripeto la famosa cronologia degli eventi ha detto questo. Alla fine è un pareggio e ripeto, se la Juventus pareggia non possiamo essere contenti, però considerando questo che vi ho appena detto, considerando come ha scritto qualcuno nei commenti che sta giocando a San Siro contro l'Inter, l'Inter che in questo momento storico è più avanti della Juventus, è più forte sulla carta della Juventus e considerando anche come ci siamo presentati a Milano, con delle assenze importanti, alla fine dici vabbè ma sai che c'è, ma io questo punto qui me lo prendo. Perché poi così deve essere, i punti che dobbiamo star qui a divorarci ancora il nostro stesso fegato sono quelli lì contro l'Empoli, contro il Cagliari, quelli lì veramente ci devono far male. Il pareggio a San Siro con l'Inter te lo puoi anche prendere. In ogni caso appunto ieri 4-4, peccato per i problemi difensivi e soprattutto è assurdo pensare che noi oggi siamo alle prese con questa storia, dopo che invece la fase difensiva, la difesa, l'essere diciamo impenetrabili difensivamente era il nostro fiore all'occhiello di inizio stagione. Quando magari non è detto che davanti eravamo brillanti, dovevamo crescere, ancora adesso dobbiamo crescere, al di là delle quattro reti realizzate ieri, però difensivamente tutto a posto. E invece adesso questo sta diventando il punto debole. Ragazzi l'infortunio di Bremer è roba seria, l'infortunio è serio, lo sappiamo, la stagione è finita, ma è una magagna veramente seria per la Juventus. Ma non lo scopriamo adesso, non è che lo scopriamo perché abbiamo preso quattro gol ieri, oppure perché ne potevamo prendere di più anche ieri e ne potevamo prendere altrettanti anche contro lo Stoccarda. Lo sappiamo dal primo giorno. Poi si cerca sempre di mettere la pezza, la falla, però ragazzi questo di Bremer purtroppo non è un infortunio che te lo tiene via un mese, due mesi, magari dici a gennaio, anno nuovo, lo ritroviamo e quindi c'è da stringere i denti. No, qui c'è proprio da ridisegnare la Juventus e la sua fase difensiva da qui, da quando si è fatto male il Bremer, fino a fine stagione. E non è facile, non è facile perché togli Bremer e alla fine anche quelli che stanno intorno vanno a soffrirne, diciamo, di questa mancanza. C'è il grande discorso Danilo Gatti. Ieri, post partita di Inter-Juve, Diago Motta ha parlato delle differenze dei suoi giocatori e di ciò che lo spinge magari a sceglierne uno rispetto a un altro, ma ha parlato di questioni tattiche. Cioè ha detto che Gatti gli dà più fisicità e invece Danilo, magari più bravo tecnicamente, è un giocatore che può essere utile perché è anche abile nell'impostazione. Non ha parlato di infortuni, non ha parlato di problematiche fisiche che impediscono in questo momento a Gatti di essere titolare, di giocare, di essere affidabile, a dispetto di quello che invece sostiene qualcuno, no? Perché poi andiamo in giro sui vari social, sul web in generale, e la gente pur senza sapere niente dice no, ma Gatti sicuramente ha il problemino fisico che... No, cioè questa cosa almeno ufficialmente non è stata detta. Quindi sono scelte. Ma la domanda è, ma che scelte sono, caro Diago Motta? Ora, bisogna avere anche un attimino il rispetto di Danilo e questa cosa la voglio dire perché sto leggendo dei commenti in giro che sono un pochino esagerati. Non sulle negative prestazioni perché il fatto che Danilo oggi in questo contesto bianconero sia impresentabile lo sto dicendo anche io e lo sto per ribadire ancora una volta. Però c'è gente che veramente sta massacrando questo giocatore con epiteti sinceramente rivedibili, soprattutto gente che magari fino all'altro ieri andava, non lo so nemmeno, cioè di passione carnale verso questo giocatore. A me questo passare sempre da un estremo all'altro non mi piace. Danilo è stato un giocatore importante per la Juventus. È un giocatore che ancora oggi ti può dare un suo contributo, ma oggi non è da proporre. soprattutto lì centrale della difesa a quattro, senza tra l'altro uno come Bremer accanto, quindi uno che magari possa anche infondere sicurezza, se vogliamo, al compagno di reparto, in partite dove la difesa sicuramente verrà sollecitata. Come ho detto se non erro ieri nel post partite, se non l'ho detto lo dico adesso, Danilo può essere utilizzato come elemento da turnover, come elemento da mettere in campo, quando teoricamente, teoricamente, l'avversario non andrà particolarmente a stressarti. Poi tutti gli avversari ti possono mettere in difficoltà senza ombra di dubbio, però una cosa è partite anche quelle europee di Champions, oppure una partita come Inter-Juva-San Silo, dove tu sei sicuro che verrai comunque martellato, è una cosa, una partita magari un po' più, tra virgolette, soft, dove magari, ecco, avrai più tu il pallino del gioco, il possesso vale, e magari veramente la questione di impostazione di Danilo, il piede più delicato di Danilo, ti può anche essere utile. Ma altrimenti deve giocare Gatti, se Gatti sta bene, deve giocare. Io non lo so se ci sono degli screzzi tra lui e Tiago Motta, qualcuno sta lanciando anche questo gossip, ma anche in questo caso non ne sappiamo nulla. Ma insomma, anche di fronte a una situazione del genere, qui bisogna fare il bene della Juve, e quindi è meglio che giochi Gatti, che non è il miglior difensore dell'universo, assolutamente, però è un giocatore che comunque sembra affidabile e sicuramente lo può essere più di Danilo e che quindi può anche poi aiutare chi sta intorno. Perché ieri, per esempio, c'è stata una partita negativa di Pierre Caloulu, forse la prima negativa di Caloulu da quando è in bianconero, anzi, forse sicuramente possiamo dirlo, in un contesto assolutamente difficoltoso, ma nel quale poi lui stesso si perde. Purtroppo i bei tempi sono finiti, i bei tempi di inizio stagione, quando mettevi i Gatti in Bremer centrali e ti potevi pure permettere questo fantastico lusso, direi, di avere uno come Pierre Caloulu lì sulla destra, che faceva i suoi compiti da esterno, ma comunque lo vedevamo anche durante lo sviluppo della manovra, anche a centrarsi. Era proprio quel valore aggiunto che infatti poi, insomma, faceva godere la fase difensiva bianconera. Oggi questa cosa non c'è più, bisogna essere chiari, bisogna, soprattutto la difesa, ragazzi, bisogna registrarla bene e secondo me lì si devono fare meno esperimenti possibili. Perché tutti i reparti sono importanti, tutti i reparti vivono anche di lavoro proprio tra i giocatori, conoscersi, ripetersi nelle azioni, però la difesa ha ancora di più, perché se la difesa stecca, probabilmente prendi gol e rischi di non vincere le partite. Centrocampo e attacco, ok, idem, è importante, ripeto, però magari se un'azione viene male, ok, un filtrante mancato, un lancio non visto, un controllo sbagliato, magari non segnerai un gol su quell'azione, però è capace che quella dopo lo farà il gol. Ok, magari un gol in qualche modo arriva, no? Guardate con la Lazio l'autogol del loro difensore. Difensivamente, se fai cagate, le paghi, e noi di cagate ne stiamo facendo troppe, tante, e dobbiamo un attimino rivedere questa storia. E quindi puoi capire anche la gestione di Diago Motta, perché a me, ragazzi, questa storia, questo suo modo di fare, che i giocatori passano dall'essere proprio inamovibili, che non li schioti dal campo nemmeno con le cannonate, a poi non rivederli più nel campo, non mi convince. Cioè, è una cosa che non mi convince, non mi piace parecchio. Adesso la stiamo vedendo un pochino con Gatti, che poi subentra a partite in corso, però inizialmente non lo stiamo vedendo, così come era successo, per esempio, con Cabal. È una roba che, per me, aveva fatto rumore. Non tutti ci hanno dato peso a quella storia, però lo vedi di dollarissimo per tre partite all'inizio stagione, e secondo me non aveva fatto nemmeno male. Poi sparisce dal campo per quattro, cinque, sei partite, ma proprio sparisce dal campo, nel senso che proprio il piede del campo non lo mette, poi torna a giocare titolare, e secondo me fa bene, perché secondo me, nelle ultime due partite, quando l'abbiamo visto in campo, secondo me è stato anche tra i migliori. Poi, difficoltà difensive, ma queste, voglio dire, ci possono pure stare, considerando anche, per esempio, la partita di ieri, il lavoro che fa l'Inter sugli esterni, però è un giocatore che ha, secondo me, una bella mentalità, anche una bella visione di gioco. È un giocatore che si propone offensivamente, è un giocatore che gioca verticale, è un giocatore che, se c'è la possibilità di imbeccare uno lì nell'area di rigore, te la fa la cosa. Nella partita lì, cosa era quella col Como, col Verona, quando mette il pallone bello sulla testa di Blau, e c'è il gol che poi viene annullato per fuorigioco, oppure ieri, quando imbecca McKennie, e ragazzi, quello vuol dire vedere, è vedere uno sviluppo offensivo. Quindi, anche lì, non stiamo parlando di perfezione, ma se Cabal sta bene, cioè lì ci sta bene Cabal. Quindi, questo, questo è il modo di gestire di Motta, che vabbè, poi dovremmo scoprire. Comunque, non c'è tempo, forse per fortuna, di pensare più di tanto a queste cose, al passato, perché c'è il turno infrasettimale, e dobbiamo andare in campo. Vediamo un pochino quali saranno le scelte di Diego Motta, e speriamo di, non adesso, quasi, cioè, impossibile assolutamente adesso col Parma, ma comunque nel breve, nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, di recuperare i giocatori, perché questa è una Juventus che, come ho detto ieri, dimostra, quanto meno, la testa. Non c'è stata con lo Stoccardi, in alcun modo, ma allora, se vediamo quello che è successo con l'Inter, possiamo parlare di un blackout, che è successo, insomma, con lo Stoccardi. Ma la testa di questi ragazzi c'è, perché sennò ieri il 4-4 non lo facevi. Al di là delle cagate difensive che ha fatto anche l'Inter, come le abbiamo fatte noi, ma se con la testa sei morto, la partita non la recuperi. Allora, bene questa mentalità, speriamo di recuperare i giocatori che ci mancano, speriamo poi a gennaio di riuscire a mettere una mezza pezza sulla questione difensiva, perché questa è una Juventus che sarà anche dietro le altre, non c'è dubbio, ma la sua può dirla. Anche in mezzo alle difficoltà, la sua può dirla, perché poi quelle davanti, che sono davanti e che sono favorite rispetto alla Juve, non è detto che siano impeccabili. L'Inter di quest'anno, ad oggi, non è impeccabile. E dico ad oggi, perché poi magari, anche lì, si registra meglio, mette la testa a posto e l'Inter è capace che scappa via definitivamente. Ma ad oggi, non è una squadra che è chilometri davanti a te. Il Napoli è una squadra che i punti li sta portando a casa, senza dubbio, però sta avendo anche delle difficoltà sul campo e poi adesso inizierà per il Napoli anche un ciclo di partite un po' più impegnative che evidentemente diranno anche di più della squadra di Conte. Però ad oggi, la squadra che arriva lì e schiaccia e rulla tutti, non c'è stata ancora. Noi non lo possiamo essere, evidentemente, però se nessuna va a schiacciare le altre, ci mettiamo pure noi nel gruppone. O no? Speriamo bene. Comunque, ditemi la vostra qui sotto, ci vediamo nei prossimi video e come sempre, fino alla fine.